Benedetta Rossi è una delle più famose blogger di alimenti italiani sui social media. In particolare su Instagram il suo profilo. In effetti, ha quasi 5 milioni di follower. Il Cuoco ha stabilito una relazione molto amichevole e sincera con i suoi fan più fedeli a cui non solo rivela i segreti per una cucina semplice e gustosa. Ma anche questioni più intime familiari. In realtà, effetti. Benedetta ha subito due seriamente in lutto breve tempo, ha perso sua nonna e zia a cui era molto affezionata. Giorno della celebrazione. Il food blogger voleva dedicare a loro un dolce pensiero. Benedetta Rossi presentatrice in tv The Big Step with a new program Antonella Clerici difende. Benedetta Rossi a Sanremo una cantante disse non vado perché sa di salsa la dedizione di Benedetta. Rossi Benedetta Rossi nel suo profilo Instagram non solo pubblica immagini o video riguardanti. Cucina. In effetti. Il suo ultimo post celebra il giorno di agosto e due persone a cui non sono più lì la nonna e zia. Il food blogger ha scritto quest'anno per la prima volta. Dopo molto tempo. Non abbiamo potuto celebrare la metà della casa di nonna e zia. Tuttavia. Volevamo passare tutto insieme. Uniti nel loro dolce ricordo e godendo alcuni dei piatti che amavano preparare. In abbondanza. Per tutta la famiglia. Buona M.I.D. A Guscolo a tutti. Benedetta Rossi e i social network Benedetta Rossi è davvero amata per i suoi profili sociali. In effetti. Sia su Instagram che su Facebook. I video delle sue ricette riescono a raggiungere anche più di un milione di visualizzazioni. Ultimo aggiornamento martedì 15 agosto 2023. 2015.